bentornati io sono marco e oggi vi presento un prodotto per la topolino che ho acquistato su amazon quindi non è sponsorizzato per trasformare la topolino con un autoradio carplay ho preso il sistema della podofo con uno schermo da 7 pollici e adesso vi farò vedere un rapido unboxing ecco andiamo ad aprire il kit della podofo troviamo un libretto di istruzioni ho preso il modello da 7 pollici subito troviamo il nostro carplay che ha una protezione solare per raggi solari qui possiamo trovare un lettore di micro sd un aux per l'uscita la vi in per chi vuole attaccare l'autoradio ma in questo caso per la nostra topolino non serve e l'usbc dove andiamo a caricare il nostro direttamente sulla topolino il nostro screen proseguiamo qui troviamo il supporto per il cruscotto un supporto avventuosa se lo vogliamo toccare al parabrezza una vite adesso la prendo una vite e un questo serve per far girare la vite lo mettiamo qua un dado questo serve per metterlo esattamente qui dentro da una parte all'altra per stringere il supporto da cruscotto poi troviamo il cavo per collegare l'autoradio e questo è il trasformatore che serve per attaccare per far andare il nostro screen e va attaccato qua noi non avendo accendisigari lo attaccheremo direttamente con una usbc usbc dimenticavo all'interno della confezione troviamo anche dei biadesivi due per che vanno posizionati su quella parte qua da base di appoggio al cruscotto andiamo installarlo insieme sulla nostra topolino io userò il supporto quello che danno di serie per attaccarlo con il biadesivo io ho optato per fare una basetta in modo da montarlo direttamente il supporto del cellulare che rimane anche più carino però potete scegliere come volete volendo potete usare anche il supporto da vetro e attaccarlo direttamente sul parabrezza ora vado a fissarlo al supporto che ho installato ecco fatto stringo la vite la cosa importante che di serie loro vi danno il caricatore ma che si attacca all'accendisigari che non abbiamo però alla uscita usbc quindi basterà prendere un cavo usbc usbc ora andiamo a vedere se si accende il nostro dispositivo inseriamo usbc facciamo passare all'interno il cavo e lo prendiamo con la mano in modo da fare un lavoro abbastanza pulito lo tiriamo fuori e andiamo inserirlo nella presa prima di togliere la pellicola vediamo se si accende che parti vediamo ecco come possiamo vedere si accende subito appena accendiamo giriamo la chiave togliamo la pellicola lo schermo è bello luminoso e ora andiamo a collegare il mio iphone al dispositivo carplay perché io avendo l'iphone userò il carplay chi invece ha android schiaccerà questo tasto qua prima di tutto la prima cosa da fare è selezionare la lingua io ho già cercato l'italiano e sono già nella lingua italiana una volta selezionata la lingua possiamo configurare anche la posizione di guida il volante a sinistra lo lascio a sinistra nel caso di macchine con guida destra selezioneranno la guida destra non è il nostro caso torniamo qua si può vedere l'aggiornamento della versione del firmware qua si può selezionare la luminosità ora di inizio tempo di fine una volta selezionata la lingua andiamo sul simbolo del cellulare con wifi o bluetooth lo selezioniamo qui c'è già carplay andiamo a vedere di attivare il bluetooth è già attivo cerchiamo i dispositivi mi trovo la camera e poi trova t 86 b proviamo a selezionarlo e vediamo dice questo codice qua e gli diciamo abbina consenti usa carplay a questo punto posso tenermi il cellulare in tasca mi dice tutti mi dice già direttamente che ore sono quanto è la batteria del mio cellulare è il classico car player che si trova negli autoveicoli di nuova generazione qui posso vedere la musica musica che sto ascoltando io ed è partita la musica logicamente il volume non è altissimo però possiamo regolarlo noi mettiamo in pausa andiamo su il google maps possiamo cercare un indirizzo e selezionando l'indirizzo possiamo recarci nella destinazione che noi vogliamo si vede bene la mappa possiamo vedere le telefonate chiamare chi vogliamo noi allora azionando il tasto qua in basso a sinistra possiamo andare nella classica schermata del carplay con impostazioni calendario e tutte le altre funzioni che troviamo sul nostro iphone chi ha android troverà le classiche impostazioni di android ora ho impostato la classica mappa di google un punto a caso che ho scelto e andiamo a testarlo sul campo partiamo e vediamo quindi se uno piace vedere tutto schermo lo mette tutto schermo se no lo può mettere solo a sinistra e intanto ascolta la musica il rumore della macchina è levato però si sente direi che è molto utile almeno per come la penso io è uno strumento utile che non si fa attaccare il cellulare il cellulare lo puoi tenere in tasca e rende la nostra topolino un po' più diciamo moderna da quel lato qua se il video vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale alla prossima